Siamo di fronte al convitto a colonna, un convitto che in questi giorni è salito di nuovo la ribalta della cronaca per i ripetuti episodi di occupazione abusiva che sono stati effettuati senza tetto. Ma il problema è che la struttura è in grande degrado, lo è da molto tempo. Abbiamo qui con noi l'ex direttore didattico in pensione Giuseppe Guiducci che ha combattuto veramente una battaglia per il salvataggio di questa grande struttura che è importante non solo per quello che potrebbe assolvere e funzionare ma è importante anche per tutta la città di Fano. Presidente Guiducci, come vede la situazione attualmente e che cosa è stata nel passato? Finalmente sento una prospettiva, però il mio grande rammarico, la mia grande delusione ho detto sono un indignato speciale oggi perché lei vede questo cancello, questa fila di case che è al di là, era unita fino in fondo, cioè il sindaco di Fano, il podestà di Fano allora sapete cosa fece? Per donare il terreno ha espropriato queste case, ha espropriato e ha donato un ettaro e mezzo di terra, poi qui si è fabbricato sul terreno quasi dato gratuitamente dal comune anche persino il Duce, detto un contributo di 400 mila lire, quindi è una struttura che cara Fano voluta dall'ente nazionale assistenza magistrale la cui siede era Roma io ho fatto il rappresentante del comitato provinciale perché quest'ente aveva dei comitati provinciali direi in tutti i luoghi perché facevamo da tramite per le richieste, ma le richieste erano di assistenza sanitaria, di assistenza scolastica, di assistenza culturale, climatico termale, previdenziale, è straordinaria per gli anziani, qui abbiamo fatto decine di convegni sul piano culturale, decine di convegni, la direzione centrale di Roma, di Viale Trastevere, spesso faceva la direzione qui a Fano con tutti i suoi componenti da tutta Italia, pensate, era centrale anche per la presenza di insegnanti che venivano a trascorrere le vacanze, mille persone passavano tra l'estate, il Natale e la Pasqua, tutto è scomparso perché? Perché la politica non ha saputo capire il valore di quest'ente, aveva già tentato una volta di sopprimerlo, non c'era riuscito, io ho fatto vedere il manifesto che abbiamo fatto all'interno della, in cui si diceva la vittoria dell'Enam, riconosciuta da tutto l'arco costituzionale come valore eccellente. Allora le invidie, il Sinaschel e l'Aimic erano coloro che portavano più voti nelle elezioni, quindi avevano una precedenza nelle elezioni, quindi questo era malvisto da altri che consideravano il luogo come centro di potere, assurdo insomma, per cui si è fatta una lotta tra categorie. Chi ci ha rimesso? La classe magistrale, i maestri che avevano un supporto qui, pensate che ci avevano anche, potevano prelevare due mesi di fondi che venivano restituiti poi nel tempo, agli orfani che avevano, direi, aiuti eccellenti. Pensate agli insegnanti che potevano persino andare all'estero per perfezionarsi nella lingua. Qui ci parliamo adesso della struttura che è versa in uno stato di degrado indicibile, comunque all'interno era ricco, ricco di locali, ricco di strutture, ricco di servizi. Questo è un discorso da farsi, ma dove si trova? Al centro di Fano, in via Montegrappa, proprio al limite dell'ingresso al centro storico, abbiamo un teatro che è a 200 posti, abbiamo una biblioteca immensa, almeno avevamo, avevamo anche una chiesina che il maestro Valentini aveva illustrato con delle vetrate a colori splendide, quindi sentivamo questa struttura come fanese, anche per il contributo che ho detto all'inizio del potestà che concesse questo terreno quasi gratuitamente. Quindi la città, il comune hanno quasi un diritto di prelazione o perlomeno ora si è stato venduto ad altri perché il tutto è passato dopo la soppressione all'Inps, inopinatamente, che non poteva, ha già tanti di quei problemi, poteva gestire le case di vacanza dell'Enam. Però almeno il comune dovrebbe avere la possibilità di suggerire soluzioni, questa è ottima perché avevamo già preparato quel lato destro là per gli anziani, persino con strutture, persino con la cucina, non so che fine abbiano fatto, però non si è mai fatto nulla.